Siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! 99 minuti di sofferenza e finalmente può esplodere la festa, liberatoria incontenibile, quella che solo un traguardo troppo a lungo atteso può regalare. La Roma ha conquistato la prima edizione della Conference League, battendo in finale gli olandesi del Feyenoord. Ci è voluta la mentalità vincente di José Mourinho, lo Special One, per riportare un trofeo europeo nella capitale, mettendo fine a un digiuno lungo 61 anni e il popolo romanista ha potuto vivere un'interminabile notte d'amore. Allo Stadio Olimpico, dove la società ha allestito i maxi schermi per consentire a circa 50.000 tifosi di seguire la partita, una marea umana ha invaso il campo, dando sfogo alla propria gioia, per poi riversarsi nelle strade di una città a tinte giallorosse. Cori, fumogini e fuochi d'artificio anche al pontile di Ostia, dove i festeggiamenti sono andati avanti per ore. È stata l'apoteosi di una grande famiglia, come l'ha definita recentemente lo stesso Mourinho. Il pullman personalizzato con l'epica esclamazione, Roma ha vinto, ha atteso la squadra all'aeroporto di Fiumicino insieme a centinaia di tifosi, anche in questo caso cori, striscioni e fumogeni, per riempire una trepidante attesa che si è prolungata fino alle 4 del mattino, quando finalmente il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, è asceso la scaletta del charter imbracciando la Coppa. Dopo le storiche e rovinose cadute contro Liverpool e Inter, Roma ha dunque avuto la sua notte di sogni, di coppe e di campioni, ed è una festa che profuma di rivincita. Grazie!